E alla fine ci siamo arrivati, il castello di Monte Cucolo, la roccaforte che sorge qui nel centro del Frignano a Pavullo, è un bastione del XII secolo, sorge a 873 metri sul livello del mare, è stato fondato dalla dinastia che sarà poi di Matilde di Canossa e con Raimondo Monte Cuccoli diventerà un bastione simbolo imperituro dei Ghibellini. Adesso mi fermo, ci metto di fare esercizi di messa in posa. Qui ci si arriva dalla via Giardini, con una salita che ha una pendenza media del 7% di due chilometri e mezzo da via Giardini, quindi praticamente dal centro di Pavullo, è un po' rognoso di inizio, si arriva anche all'11 mi pare il 12% di pendenza, non di più, poi dopo verso la fine spiana, è molto godibile. Quando ci arriva qua, insomma, vi lascio immaginare la bellezza della natura. Siamo nel Parco del Frignano, la bellezza della storia e la gioia nell'attività fisica e del ciclismo in particolare.